Daspo, sportivo per un 26enne di Paternò presente nell'area dello stadio durante la partita Paternò-Licata lo scorso 14 novembre, ad emetterlo è stato il questore di Catania. L'uomo è stato identificato dagli agenti del commissariato di polizia di Adrano in servizio di ordine pubblico allo stadio come persona già sottoposta ad una precedente Daspo. Tutto è cominciato quando gli agenti, dopo alcuni lanci di petardi provenienti dall'esterno dello stadio ed indirizzati al settore dove era posizionata la tifoseria ospite, sono intervenuti all'esterno del Falcone Borsellino per identificare gli autori dei lanci e qui hanno trovato il 26enne insieme ad un'altra persona che alla vista dei poliziotti è fuggito. Gli agenti hanno successivamente trovato e sequestrato una passamontagna di colore nero e un fuoco pirotecnico denominato Big Thunder abbandonati dal fuggitivo. Fermato invece il 26enne, la divisione anticrimine ha subito accertato come l'uomo è tuttora sottoposto ad un Daspo della durata di cinque anni emesso dal questore di Messina per una precedente partita con l'obbligo di presentarsi presso il comando stazione dei carabinieri di Paternò al decimo e al quarantesimo di ogni tempo degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Paternò. Visto i gravi fatti per i quali il 26enne è ritenuto colpevole, per lui, come detto, è stato emesso un secondo Daspo, questo della durata di otto anni, oltre ad essere stato segnalato all'autorità giudiziaria per inosservanza di più prescrizioni imposte dal primo Daspo emesso nei suoi confronti.